Bene amici, domenica premarziana e non sarà la solita rubrica pagamenti. Certo parleremo di tutte le prossime mosse IMSS che ha già un piano dettagliato per questo mese di marzo, abbiamo però anche alcune date che sono ufficialissime per i primi giorni della prossima settimana e soprattutto anticipazioni, annunci, ufficialità succulente e no, nemmeno a marzo ci sarà un ritorno alla cosiddetta normalità, ma ancora diversi anticipi, accelerate, ricalcoli e anche c'è una nuova carta. Adesso vi spiego per bene tutto, io sono Mr. Lull e trovate come al solito la divisione in capitoli della nostra rubrica qui sotto in descrizione, adesso partiamo. Prima, like, iscrizione, campanone, abbonamentone, condivisione e sigla. Dunque è inevitabile, partiamo con le pensioni. Stiamo giusto giusto per archiviare quelle di marzo con i bonifici in banca, ma siamo già pronti giustamente a chiederci se la prossima mensilità di aprile sarà anticipata oppure no vista la fine dello stato di emergenza al 31 di marzo. Ecco, come già anticipato dalla funzione giuridica della stessa protezione civile, si sta lavorando in queste settimane per cercare di rendere strutturali queste anticipazioni, però siamo in attesa di ufficialità in merito. Infatti senza provvedimenti in questo senso si tornerà all'ordinario. Appena mi arriverà comunque una mail di conferma o meno vi saprò dire. Poi carta acquisti bimestre marzo-aprile. Sì, attendiamo il pagamento già del nuovo bimestre per questo inizio marzo e poi ovviamente anche la coda di gennaio-febbraio per chi ancora attenda le date. Ma da ieri, andate a recuperare questo video, c'è anche una nuova carta sconti nazionale con una platea di beneficiari un po' diversa, un po' più allargata, che è già richiedibile e scaricabile dalla app Io. Un mese poi di marzo, che sarà complicato anche per la Naspi di scuola e disoccupazione. Infatti sono ancora in tanti senza le date per la competenza di gennaio. Ultime disposizioni uscite, vi ricordo, per il 25-2-25 febbraio. E invece la mensilità prossima di marzo, competenza febbraio, dovrebbe arrivare entro il 9 di marzo, come è successo esattamente lo scorso anno. Attesa poi quasi snervante anche per il bonus 100 euro, il trattamento integrativo. Le prime date sono uscite nei fascicoli per il 21 di febbraio, ma tanti in tanti siete senza disposizioni. E poi ancora attentissimi, perché avete tempo solo fino al 28 di febbraio, poche ore, per richiedere, avendone ovviamente i requisiti, il bonus 800 euro, mamma domani. Mentre l'altro bonus, sempre da 800 euro, quello per genitori separati in difficoltà col pagamento del mantenimento, pare nuovamente scomparso dai radar. Le istruzioni non ci sono. Stesso discorso, mancano le istruzioni per andare a richiedere il bonus psicologo ufficiale, massimo 600 euro, e poi dal mille proroghe arriva, ve lo dicevo anche la settimana scorsa, un bonus da massimo, in realtà un voucher, un bonus voucher, da massimo 2.500 euro per la patente, la patente professionale da camionisti. Sono invece già ufficiali per il 2 di marzo disposizioni per l'assegno temporaneo figli, competenza gennaio su domanda. E questo mese, questo mese sarà per forza di cose un mese turbo, un mese di riscatto da parte di IMSS, che ha promesso il pagamento, sempre di assegno figli, sia della mensilità di febbraio, assegno temporaneo in questo caso, sia il pagamento della mensilità di marzo, e in questo caso si tratterebbe della prima mensilità di assegno unico, universale. Ovviamente il pagamento di marzo arriverà solo per chi abbia fatto domanda entro il 28 di febbraio. Affrettatevi, una doppia disposizione, un doppio pagamento, quindi non lo dico io, lo dice IMSS che lo ribadisce anche nell'ultimo comunicato del 21 di febbraio. Continueremo anche a trovare i bonus sociali Arera in bolletta automatici, per questo 2022, e prorogati diciamo nelle loro maggiorazioni, grazie all'ultimo decreto bollette, che va anche ad eliminare ulteriori oneri generalizzati per tutti, quindi non solo per il pubblico beneficiario dei bonus Arera, nel tentativo finora mal riuscito di calmierare questi prezzi impazziti. Ma siamo arrivati a reddito e pensione di cittadinanza, una ricarica speciale di metà mese, quella di marzo, per rinnovere nuovi beneficiari, che arriva il 15 marzo, senza particolari sorprese, ma quella di fine mese, esattamente come è successo pochi giorni fa, poche ore fa, sarà nuovamente un rebus, visto che il 27 marzo, guardate un po', cade di domenica. Io ho già scritto al dirigente e vi mostrerò a breve la sua indicazione su un eventuale nuovo anticipo o eventualmente un posticipo al 28. Il fatto è che a marzo IMSS, quella furbissima IMSS, andrà a ricalcolare anche i tagli sulle mensilità RDC, che questo mese per errore, problemi tecnici non hanno applicato. Parliamo ovviamente dei recuperi di benefici in godimento, come giusto per citare, l'incremento al milione. Quindi si prospettano dei doppi tagli, dei recuperi ancora, a danno sempre delle categorie più deboli, a meno che il governo non si dia una svegliata e intervenga prima con un provvedimento normativo. In queste due finestre, metà mese e fine mese, attendiamo su RDC anche, come sempre, l'integrazione a segno temporaneo, sia di febbraio, sia gli arretrati di gennaio o arretrati anche di mesi prima, per tantissimi che non li hanno ancora percepiti, e poi attendiamo anche notizie sull'integrazione per la prima volta dell'assegno universale competenza marzo. Quello di cui proprio invece non si parla più sono reddito di emergenza, scomparso da mesi, da qualsiasi bocca, da qualsiasi radar, né di bonus onnicomprensivi, stagionali, intermittenti, eccetera, eccetera. Io, ragazzi, se qualcuno dirà qualcosa, vi aggiornerò prontamente. Grande assente, almeno finora, è anche il bonus. Beh, speriamo, diciamo, nella prossima settimana, di vedere le prime date che personalmente nei fascicoli, appunto, non ho ancora avuto modo di vedere. Chiudiamo, come sempre, con le integrazioni salariali. FSBA, tutto fermo, tutto bloccato, niente fondi, e poi, per FIS e CIG COVID, non ho particolari notizie, come sempre, novità, notizie che invece vi può dare sempre e solo il servizio live chat info CIG. Detto questo, se avete domande, come sempre, io vi aspetto nei commenti, spero che la rassegna sia stata utile o quantomeno interessante, se è così, non scordatevi, mi raccomando, like, iscrizione, campanone, campanone, abbonamentone, condivisione. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto, grazie, da Mr. Lul.